Buongiorno Sua Maestà, grazie per aver accettato il mio invito. Io sono l'imperatrice dei tarocchi, dove sono i tuoi doni? Onestamente di doni non mio. Come è possibile? Io sono una regina, non ci si presenta davanti a una regina senza doni. Non vedi la mia bellezza, non sai che io sono madre natura, colei che crea e distrugge. Tutto in me è un rigoglio. Io sono bellissima e terribile. Io sono misericordiosa e ineluttabile. Io sto nel tuo desiderio di essere riconosciuta, nella tua sensualità, nella tua capacità creatrice. Sono l'altra faccia del femminile. Eh, lo so già. Ho già incontrato la papessa. Quella, così sacra così impalpabile. Sì, siamo sorelle ma abbiamo scelto strade diverse. Senta, sua ammestà. Che cosa chiedi quando qualcuno la estrae dal passo? Chiedo molte cose, di agire, di non nascondersi, di riconoscersi. Ma c'è una legge che io reggo su tutte le altre e questa legge io la farei indovinare agli amici del canale. Perfetto. Il primo, che indovina la legge universale, che l'archetipo della grande madre imperatrice ha nel cuore, chiaramente secondo i dettagli della psicologia archetipica dell'archetipo stesso, vince una partecipazione gratuita al mio corso I tarocchi e gli archetipi di Jung, che io tengo praticamente tutti i mesi. Ricordo infine che, a chi facesse piacere, io sono in diretta praticamente tutte le domeniche sera su questo canale, o da solo, o con degli amici, per fare dei ragionamenti insieme rispetto a noi stessi, ma anche per delle mini consulenze gioco. Se il video vi è divertito, vi ringrazio se mettete un pollice e vi iscrivete al canale. Grazie mille di essere stati con me.